papà a scuola hanno detto che per imparare nella vita bisogna sempre chiedere bravo si è vero bisogna essere molto curiosi per imparare le cose allora senti papà posso farti qualche domanda sì certamente come mai le bolle di sapone volano beh ecco quando c'è il vento le porta via sì ma perché volano non lo so effettivamente e perché invece ieri volano beh loro hanno il motore sì ma le auto non volano non lo so ora di preciso e perché le barche galleggiano neanche questo so ed invece cos'è il fuoco non lo so e sai cosa è la corrente elettrica no e la luce non lo so ok papino grazie va bene così figliolo sì per oggi ho imparato abbastanza